Xur è tra noi, come sempre prima di iniziare vi ricordo le solite cose in descrizione trovate il giveaway di Instant Gaming mancano 17 giorni, potete partecipare per vincere qualsiasi gioco a vostro piacimento chi ha giocato Diablo 4, le schede per l'Xbox, per la Playstation, per comprare i vostri giochi, qualsiasi roba e poi c'è ovviamente sempre per questi acquisti il link normale ok? Quindi se volete comprare qualcosa lo fate lì poi siamo sulla zona morte europea, baglia d'ortuosa, solito posto, baglia da polpo sì, baglia da polpo ho letto fascia da polpo in chat, mi è uscito fuori baglia da polpo allora cosa vende? Siamo sulla baglia d'ortuosa, comunque zona morte europea al solito posto ala della vigilanza, impulsi con scariche di 5 proiettili quando un alleato viene ucciso rigenere la salute e la velocità di movimento aumenta e in più c'ha questa roba qui di fino all'ultimo che essere l'ultimo membro in vita della squadra migliora le prestazioni dell'arma e aumenta notevolmente il recupero e nettamente arma da pvp in pv questa roba personalmente non la userei mai neanche per fare le battuglie però se volete potete farlo in alternativa, usatela in pvp poi ci sono i geloni con 25 di recupero e 15 di forza non è un roll bellissimo calcolando che si basano principalmente sulla mobilità perché rigenerazioni più veloci di carnate corpo a corpo è schivato durante lo scatto le schivate aumentano la velocità di scatto quindi schivare è la cosa migliore che c'è da fare con i geloni ci sono un po' di build che possono essere utilizzate con i geloni ve l'ho fatta vedere anche qualcuna in passato col cacciatore stasi vuoto qualsiasi cosa si può utilizzare con i geloni quindi assolutamente una buona esotica poi c'è l'elmo indistruttibile per i titani le uccisioni corpo a corpo ad arco forniscono salute ed energia del corpo a corpo quindi lo recuperate subito se volete carino per l'arco 3.0 ci può stare per i contenuti più difficili assolutamente no perché rischiate di venire washottati al primo mob però nel general gameplay potrebbe anche essere utile corona delle tempeste brutto roll purtroppo ma assolutamente un buon pezzo noi stiamo utilizzando e vi avevo fatto già vedere con la build ad arco la stella del sole caduta ma questa era un'alternativa quindi se non avete il nuovo pezzo il nuovo casco della strega questo è quello che per l'arco 3.0 con la strega fa le miglior cose c'è l'archimia sanguigna i pantaloni che non vi ricordo come si chiamano ma ve lo dico subito perché ce l'ho qua i stabilizzatori diamagnetici volendo potete utilizzare anche l'artista in fuga insomma ci sono un po' di cose ma il corona delle tempeste è sicuramente un'ottima cosa poi armi leggendarie abbiamo un arco con estrazione celere implacabile inseguimento regale con profana tombe caricatore multi uccisione poi che cosa abbiamo nessuna tregua con triplo colpo mira istantanea vento assassino sorgente per il sussurro roboante non è brutto questo è ondate da vuoto carino ma purtroppo il roll è un po' così indecente fondina autorecaricante demolitore per il cecchino ben piantato lapide per la metagliatrice lapide sulla metagliatrice non è male se lo utilizzate per pulire e non per fare dps lapide vi aiuta un pochino facendo gli headshot fate il ghiaccio il ghiaccio esplode eccetera eccetera quindi ci potrebbe sta e vabbè ovviamente il solitario con colpo rapido scivolata amplificata oddio colpo rapido scivolata amplificata con ribalzanti calipropiano e cittata ma se proprio volete fare pv pari ne che volete tutta questa roba ci potrebbe anche stare un buon roll per il pvp poi abbiamo il falco lunare con surplus e il racconto non ho morto con quarta fortunata penso che siano entrambi brutti a parte il racconto se volete utilizzarlo se volete in pv ma insomma quarta fortunata insomma un po' così poi abbiamo i guanti del cavaliere di gensime quindi questo è un vecchissimo set di io se non sbaglio dovrebbe essere quello che vendeva a shermir dovrebbe sono con la strega quindi abbiamo dei guanti un po' bad tutto brutto per la strega raga tutto brutto neanche sto qui a farvi vedere che tanto è tutto brutto allora abbiamo il dim che vi faccio vedere anche cosa vende per gli altri personaggi dunque questo è il titano e abbiamo aspetta ho visto un pezzo figo me sa delle braccia un po' così e il petto invece è carino il petto buono raga decisamente buono con 25 di recupero 21 di disciplina e 6 di resilienza e 10 di forza qui se voi mettete la moda su resilienza vi diventa un bel 18 27 23 che per una 300 è assolutamente un'ottima base poi abbiamo un 25 sul casco di resilienza però un 21 di intelletto quindi un po' meno per quell'intelletto lì 18 11 20 pure questo carino non al massimo ma carino potrebbe essere per il titano regalvi due pezzi ottimi per avere una base di partenza buona per una 300 se volete sia le gambe che il petto si possono prendere ovviamente sono pezzi normali quindi dovete metterci in conto che non sono quelli dei dungeon per metterci la mod in più con il cacciatore invece questi qui no il casco peggio ma gli stivali quel 21 di resilienza non è male c'è anche 20 di mobilità che non è male vi diventa con la mod 22 23 e disciplina 16 carino buon pezzo un po' entry level però entry level per una tripla 100 quindi potrebbe starci se recuperate un pochino da qualche altra parte con la disciplina un po' più alta secondo me ci possono stare quindi prendete le gambe del cacciatore gambe e petto del titano coronale delle tempeste geloni se volete e delle armi leggendarie direi niente a parte il solitario se volete fare i bibboppari però per il resto insomma questo è Xur è è è pur è